Sono oltre 850 i controlli sul rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid effettuati nell'ultimo mese su tutto il territorio piacentino dalla Guardia di Finanza, grazie all'impiego di oltre 400 uomini anche in sinergia con le altre forze di polizia. Circa 800 le persone identificate e tra queste sono state elevate 49 sanzioni. 55 invece sono stati gli esercizi commerciali ispezionati, dei quali 4 sono stati sanzionati e chiusi per 5 giorni. In particolare, durante un passaggio di routine davanti a un bar in orario di chiusura, nonostante le sere cinesche completamente abbassate, le fiamme gialle hanno rilevato all'interno la presenza di 12 clienti mentre bevevano un aperitivo in compagnia, sono stati tutti sanzionati e il locale è stato chiuso per 5 giorni. I controlli, concentrati in modo particolare nelle zone di maggior afflusso di persone, proseguiranno anche nei prossimi giorni per prevenire comportamenti che possono mettere a rischio il contenimento del contagio del virus e che potrebbero compromettere i sacrifici di tutti i cittadini che rispettano le norme.